oh ma porco dio la madonna ah ciao ragazzi allora porco dio la madonna di merda l'ha fatto un po' lungo? no va bene allora spacchettiamo a porco dio la madonna di cristo sonia bijou anche questo è sonia bijou e io voglio spacchettare a vedere mamma mia quando è caldo stupac dove state? io non voglio rom a porco dio la madonna di cristo ah questa tempezza da polvere non voglio ecco qua spacchettare male perché sennò i tagli pure le viscite però non lo voglio strappare perché sennò fa la polvere insomma li tingo da prì ecco qua ecco qua ragazzi che poi ve lo facciamo vedere indossati ah ragazzi la maglia bellissima molto molto bella che copre per chi ha bisogno qui è vedete aperta e qua c'è un pezzettino di cosa che copre qua che non ci piace dovremmo fare ginnastica ma se non lo facciamo ritrovo troviamo i rimetodi i rimetodi i rimetodi i rimetodi sono bellissimi questa ragazzi è la tuta fashion sarebbe stata meglio bella arancio verde viola tutti i colori del mondo però io mi sono basata siccome non la so come la vestibilità mi baso sempre sul nero e vado tranquilla perché magari no sfinisce perché il nero non sfinisce non sta cosa il nero sfinisce però comunque il rosso accendua accendua di tutto il rosso l'arangione mi sono basata sul nero ora mi sfiato c'ha una molla qui dietro vedete è bellissima poi quassù c'ha il non si vede perché il nero se era rossa oppure si vedeva di più però se andate nei suoi video si vede bene qua ha una a porco della madonna ecco ha una scollatura così il nero non si vede però ha una scollatura così molto bella molto bella ragazzi mi piace assai mi piace qua è un copri un po' pancia se poi la riempiamo sono azzi nostri poi questa è un'altra maglia come quella nera però rossa perché io poi mi sono preso guardate che bella così e questo sempre il copri manica qua è aperto poi ve le tinga fa vedere ve le tinga fa vedere cose cos cos che cos questa è ocra invece è un vestitino uguale alla maglia lui c'è che mi guardi è un vestitino uguale alla maglia svasè bellissimo sempre con questa cosa ragazzi che a me piace molto scollata la manica che si mette qui questo aperto però qua che chiude un pochino e qua e tutto qua ritricche track e la 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 ciao ragazzi buona serata i miei acquisti mi sono piaciute assai grazie a tutti